Io lo dico, l'ammetto, pochi sci-fi sono belli, il resto è merda, non sanno sfruttare bene il potenziale del genere. Lo sai qual è il fatto lit? È che a livello di sci-fi, soprattutto nel mondo videoludico, ma anche in realtà in ogni medium, non è per forza modo videoludico, tu devi avere un bel world building. Tu devi avere un bel world building su cui puoi far marciare la roba. Cioè, per fare un esempio molto opposto, Dragon Age, perché anche nei suoi capitoli successivi, che erano molto un po' più grezzi, un po' più bruttini rispetto a Origins, comunque tornavano le cose, ti intrigavi, partivi. Perché alla base di tutti i giochi c'era il world building con i codex del mondo Dragon Age che era fatto di Cristo. Cioè tu dici, ok, qua ci sta questa cosa perché se ti collega a quell'altro codex che abbiamo letto ti fai tutti i tuoi ragionamenti e vedi che il mondo c'ha un senso logico. Io pure, per esempio, con i sci-fi, quando cominciano a fare, eh, perché dobbiamo attivare il flusso di neutroni del cazzapipolo che tu lo fai spartire, io dico, che cazzo sta da parlare di? Cioè, quando cominciano a parlare in finto scientifichese, mentre come lo fa già un, per esempio, Kojima all'interno di Death Stranding, tu cominci a ragionare su quelle cose, con gli appunti e le robe, tu fai ok, figata. Cioè, c'ha un senso. È quello che sbagliano a fare. Tu nella supercazzola ci devi costruire sopra. Cioè, appunto perché è una supercazzola, perché è fake, perché puoi fare il cazzo che vuoi. Per esempio, in The Space, hai detto che avete imparato a controllare il gravitone, porca troia, di empimi, di cazzatine, di codex, di lore, di robettine con cui potete fare le cose. E che ci sta, eh, però l'hanno fatto soltanto per quelle robe che gli servivano. Tipo, noi siamo il gravitone per fare esplodere i pianeti e smangiucarci i pezzetti. Il fatto del sci-fi, purtroppo, è che rispetto a un fantasy è più complesso creare del world building. Perché tu, in D&D, dici, oh, sta creatura sa usare magia, ergo uno sbrego di robe, sono risolte. Perché? Perché è magic. Che c'ho la magia, dio madonna. Tu puoi fare una cazzata e metterla in rapporto con la roba vera. È quello che ti faceva affascinare anche, per esempio, di Infinite. Che tecnicamente, molto lontano, tutte quelle supercazzole... Beh, per carità, oggigiorno abbiamo appurato che, per esempio, viaggiare in un universo differente, tutte quelle robe, sono altamente, se non quasi, a livello dell'impossibile. Perché c'è un puttanaio di roba. Però è figo che abbiano cercato di sfruttare qualcosa di esistente per farci qualcosa sopra. Oh! 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 Grazie.